buongiorno amiche buona domenica come tutte le domeniche sono uscita con gioia dal sarcofago per creare assieme a voi un make up dedicato a una bellissima principessa disney facilissimo indovinare con questa fascetta vero amiche è biancaneve mi piace tantissimo adoro biancaneve un po' perché abbiamo un po' i colori dei capelli e degli occhi li abbiamo in comune e la trovo così carina così dolce la trovo veramente bellissima mi piacerebbe assomigliare anche solo lontanamente un pochino a lei e ora ci proviamo amiche con questa fascetta skin che è rossa coccolosissima ma è un uva gudrotto su vroco amiche il fiocco un pochino storto ahimè mi sono accorta che il fiocchettino è un po' storto e mi urta leggermente il fatto che sia storto vedete non è simmetrico l'hanno proprio sistemato male in questa fascettina ma amiche voi come state in questa domenica state bene spero proprio di sì come sempre come tutti i giorni andiamo a raccogliere i capelli in un cocon a modi lottatore di sumo perché i capelli in faccia mi danno tanto tanto fastidio mi fanno il sollettico e ora primo step della skin care quotidiana ah sì ho visto che avevano chiesto ma certo è il primo step della skin care quotidiana ma dopo essermi lavata la faccia i denti amiche la doccia tutte le cose insomma utili da fare per l'igiene personale ma ovviamente non le posso far vedere per ovvi motivi e quindi qua nel video facciamo vedere gli step skin care quelli che faccio diciamo a tavolino quindi abbiamo applicato l'acqua di sillata di rose tonico rinfrescante e ora andiamo anche ad applicare lo stick idratante di chicco questo stick è pazzesco forse è anche più rinfrescante degli altri che usiamo di solito mi sta piacendo veramente tanto e il lip scrub qua di pupa il sexy lips è veramente fenomenale perché oltre a essere molto delicato è anche leggermente profumato e il profumo mi piace tantissimo perché molto delicato ora applichiamo il siero in crema fluida sempre di acqua alle rose con acido glicolico 2 per cento purificante opacizzante e anti imperfezioni con attivi astringenti di rosa multiflora veramente delicato non appiccica mi piace tanto e ora è la volta del contorno occhi contorno occhi sensitive sempre di acqua alle rose con collagene vegetale antirrughe antiborse e anti occhiaie molto delicato mi pare bene per questo contorno occhi lo trovo delicato non mi dà fastidio e speriamo di avere anche qualche risultato amiche tangibile vedremo tra qualche settimana lo applico anche nel contorno labbra e ora è la volta della crema lifting la senza età di acqua alle rose con acido ialuronico vegetale che distente le rughe di viso e contorni pazzesca questa crema tra l'altro è grandissima perché ce n'è un botto sono 50 ml e non finisce più andiamo a rimuovere i rimasugli del lip scrub dalle labbra e ora è la volta del labello il labello strawberry shine 24 ore di idratazione ed è pazzesco perché è di un rosso che mi piace tantissimo colora appena 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 le labbra ma proprio impercettibile e ha un'idratazione di 24 ore il delicato tocco di colore mi piace proprio leggero ora andiamo ad applicare anche il trattamento collo e decolletè di clarence è un trattamento giovinezza decolletè collo levigante e rassodante e ora è la volta delle manine andiamo ad applicare un po di crema comfort mani di lancome l'avevamo trovata nel calendario dell'avvento amiche non applichiamo la crema solare d'inverno perché come ci diceva un'amica io non lo sapevo ma sotto indice uv3 non serve la protezione solare quindi ne facciamo a meno e teniamo un occhio all'app del meteo per capire quando avremo di nuovo bisogno di mettere il filtro solare nel viso ora applichiamo il correttore wonder me cancella stanchezza di pupa è un correttore perfezione istantanea che rende lo sguardo disteso e riposato con trattamento antiborse e antiocchiaie e oggi andremo utilizzare come potete vedere tantissimi prodotti rossi questi qua sono due fondotinta l'active light di pupa e l'altro il fondotinta ultra levigante con comunque hanno le spf 6 questi fondotinta e ce l'ha quindi non è che lo possiamo scorporare ce li mettiamo così amiche un è un po più scuretto ed è in colorazione 0 70 ed è questo che stiamo applicando adesso e quello più chiaro è ultra levigante ed è in colorazione 001 devo dire che sono tra i meglio fondotinta che ho provato mi piacciono tantissimo vanno a performare benissimo e mi durano tante 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 amiche tantissime ore fissate poi con la cipria durano tantissimo non ho visto mai segni di cedimento oppure che ne so tipo che si lucida un po la pelle assolutamente no devo dire che mi piacciono tantissimo rapporto qualità prezzo ottima direi uno dei migliori anche wet and wild sinceramente mi è piaciuto tanto però questo questi qua di pupa sono fenomenali applichiamo ancora un pochino di correttore perché mi pareva di averne applicato troppo poco da questa parte e quindi ne aggiungiamo un po e andiamo a sfumare amiche con santa pazienza bene 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 anche perché biancaneve non è tanto abbronzata io amiche non volevo sembrare cadaveriche quindi un pochino l'ho applicato andiamo comunque a sfumare bene 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 con il fondotinta chiaro e speriamo di creare un look biancaneve super super carino a grandi aspettative per questo look l'importante sfumare bene ora vola amiche è la volta di della cipria laica doll di pupa è una cipria libera invisibile effetto pelle nuda e andiamo a infarinarci come i totani alla domenica ci piace penso un po a tutte no cucinare ma nel mio caso anche infarinarmi la faccia per andare a fissare benissimo il make up questa cipria è pazzesca non molla durante il giorno però proprio zero amiche rimane la si fissa ed è fantastica perché opacizza al punto giusto ma dà anche un po di luminosità e ora amiche si è la volta della palette è bellissima questa palette è veramente molto carina e biancaneve è di disney di revolution ed è pazzesca e amiche che dire io qua con questa palette mi sono un pochettino commossa perché amiche in passato non diciamo che ho avuto dei momenti un po come tutti difficili e la mia storia mi accomuna un pochino a biancaneve quindi non ho potuto non commuovermi all'utilizzo di questa palette scusate amiche adesso cerco anche di riprendermi così continuiamo col make up e andiamo a posizionare come primo step un po di blushino ok questo è super carino secondo me facciamo un po un mix di questo rose e un po di questo arancione per creare un tocco più pescato però direi che è super colorato ma niente paura andiamo subito a sfumarlo col pennellone pulito ma con un pochino di cipria per andare appunto ad alleggerire un po il colore perché era veramente forte e sfumandolo devo dire che abbiamo ottenuto un colore fantastico andiamo anche a illuminarci con questo illuminante che è veramente fantastico è super super perlescente mi piace proprio tanto andiamo a sfumare anche l'illuminante col pennellino un pochino sporco di ciprietta per andare a rendere diciamo la situazione un pochino più naturale amiche a me mi tocca particolarmente il cuore e la storia di biancaneve e quindi mi commuovo tantissimo mi accomunano tanti tratti di biancaneve però alla fine anche diciamo come la principessa come biancaneve anche a me diciamo che è finita bene però amiche quando il cuore batte a volte ci si ricorda un pochino anche del passato e come oggi scusatemi ma mi sono un pochino agitata adesso asciughiamo le lacrimucce e proseguiamo con un make up occhi e speriamo che venga decente amiche perché era un pochino commossa un pochino scossa e voi direte eh ma per la palette no un pochino per tutto quello che sta intorno i miei ricordi e quindi sì era un pochettino scossa vi chiedo scusa un pochino agitata un pochino sì in balia dei ricordi e ora applichiamo due colori molto belli anzi tre un bianco all'interno dell'occhio e un pescato molto molto chiaro sul resto dell'occhio non voglio fare una sfumatura scura perché la principessa biancaneve non ha molto trucco sugli occhi è proprio l'occhio molto 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 naturale quindi già così io in confronto a lei sono truccatissima direi però di abbondare con la matita nera amiche sacchiamo la matita nera come se non ci fosse un domani così la usiamo e la consumiamo anche un po è la matita che ci avevano dato con gli omaggini di lancome le crayon col spero che si dica così la numero 01 nera è una matitina già temperata perché un pochino più corta di quelle formato vendita e con gli omaggi ce la danno sempre cortina formato diciamo da viaggio da borsetta è molto comoda comunque durano un botto quindi anche se ci danno mezze matite sono super comode lo stesso e ora andiamo ad applicare questo magnifico mascara sempre rosso come biancaneve ed è fantastico è il bump sexy lashes fa delle ciglia amiche spettacolari super ventagliate lunghissime e oggi avevo proprio voglia di utilizzare tanti prodotti col pack rosso per dedicarli appunto a biancaneve che diciamo il suo colore il rosso perché le sue labbra sono rossissime guardate la differenza degli occhi quello senza trucco e quello col trucco la differenza amiche è agghiacciante se mi vedono così in giro si spaventano ma non c'è pericolo noi non usciamo con un occhio truccato e un occhio no anche se sarebbe sinceramente un'idea nuova originale che potrebbe destare curiosità e scalpore ma non mi sembra il caso di destarla io mi tengo profilo basso e mi trucco pure il secondo occhio che ne dite amiche e stavo dicendo che il colore rosso è il colore di biancaneve come la mela di biancaneve era rossa la mela che gli avevano dato avvelenata poverina e quindi anche la palette l'hanno fatta rossa con le melette disegnate sembra un libro questa palette di revolution io l'avevo anche costano poco le avevo pagate poche io le ho cercate tutte assieme a un certo punto mi sono svegliata dal torpore e le ho cercate in vendita e le ho trovate tutte su amazon e le ho comprate a una a una qualcuna l'ho pagata poco e qualcuna l'ho pagata molto perché mi arrivava da venditori che avevano alzato il prezzo alle stelle però siccome ormai ne avevo tante mi faceva piacere cercare di comprarle quasi tutte e quindi piano piano nel corso dei mesi le ho acquistato acquistato tutte quelle che trovavo spero appunto di averle prese tutte questo è il look occhi che abbiamo ottenuto con la palette di biancaneve secondo me è un look molto sobrio anche se vogliamo dire così il makeup c'è però io lo trovo molto delicato molto carino devo dire che oggi mi guardo sempre su giù destra a sinistra per farmi per farvi vedere il risultato del mascara ma direi che anche le labbra hanno bisogno di qualcosina che dite applichiamo l'heim sexy che è un rossetto luminosità assoluta in colorazione 001 a me che è un sogno questo rossetto è bellissimo è un sogno pure nel prezzo perché questo l'ho trovato in offerta al tigota a 1 euro e 90 perché stavano dando fuori questi color queste colorazioni che tra l'altro sono veramente spettacolari avevo preso un po di colori di rossi di appunto di puppa I'm sexy e devo dire che mi piacciono molto 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 amiche fatemi sapere nei commenti come sempre come state come va la vostra domenica se vi siete riposati un po se avete se dovete lottare contro la lavatrice come me e niente fatemi sapere se questo look dedicato a biancaneve vi piace se lo trovate carino cosa ne pensate della domenica dedicata alle principesse disney io la trovo una cosa molto molto carina di fare qualche make up appunto dedicato per esempio alle principesse magari più avanti potremmo farlo dedicato anche ad altri personaggi lo trovo veramente carino e a me diverte tanto lo trovo molto interessante stimolante per me stessa stimola la mia creatività e oggi ho deciso anche di sciogliere i cappelli per farvi vedere il risultato finale ma sempre con questa fascetta che ne dite assomiglio anche vagamente a biancaneve o anche alla nonna mi che vista la mia età non sono una ventenne quindi anche la nonna la zia di biancaneve biancaneve da grande che ne dite fatemi sapere cosa ne pensate di questo look a me piace tantissimo probabilmente è il look che mi piace di più fino adesso perché con i capelli neri così io secondo me mi ci vedo un pochino in biancaneve mi piace proprio tanto il risultato del look del rossetto anche la fascetta la toglierò perché fa caldo la fascetta amica e skin care imbottitissima fa un caldo pazzesco però l'effetto mi piace proprio tanto 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 fatemi sapere se vi va nei commenti cosa ne pensate io mi sono divertita tantissimo a creare questo look assieme a voi e come sempre io vi auguro una domenica bellissima vi mando un bacio grande 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 ci vediamo come sempre più tardi col video del pomeriggio un bacio amiche buona domenica se potete mi raccomando riposate cinque minuti sul divano e poi come me tutte a lottare contro la lavatrice buona domenica amiche ciao ci vediamo dopo come sempre nei commenti ciao